Matsudaira Katamori, Daimo Deizu, appartenente a una delle tre grandi casate Tokugawa viene nominato protettore di Kyoto dal Bakufu di Edo che sta perdendo prestigio nonché il controllo della situazione mentre a Kyoto si susseguono omicidi dei suoi sostenitori. Verso la fine del 1862 il Bakufu mette in atto un progetto per sostenerlo. Per la prima volta nella storia il Bakufu a ruola Ronin che però le autorità preferiscono chiamare Roshi per combattere i ribelli e a tal fine proclama una amnistia generale per chi si presenta volontariamente. A febbraio il corpo di Roshi comprende centinaia di uomini provenienti soprattutto dall'est del Giappone. Nell'aprile del 1861 Shimazo Isamitsu detentore del potere di fatto a Satsuma ha condotto a Kyoto mille dei suoi samurai. Isamitsu intende guadagnare prestigio e potere sia a Kyoto che a Tokyo promuovendo la cosiddetta unione di corte e campo ovvero un sincretismo tra la famiglia imperiale e quella dello shogun magari anche attraverso un matrimonio politico ma alcuni dei suoi stessi samurai non lo hanno compreso e vorrebbero la distruzione dei Tokugawa e il ritorno del potere nelle mani dell'imperatore. Ciò porterà a quello che è noto come incidente del Terada-ya di Fushimi, una zona a sud di Kyoto. Tra di loro vea un Ronin, Kiyukawa Achiro. Figlio maggiore di aggiati produttori di seken dello Han di Shonai nel nord di Giappone, egli non avendo interesse negli affari di famiglia si è dedicato alle arti marziali e alla letteratura. Ha studiato a Dojo Chiba, una delle tre grandi accademie di scherma di Edo ed è abilitato all'insegnamento dello stile Okushin Ito. È un uomo di forti convinzioni, carismatico e sembra anche piuttosto rapido all'ira. Una sera ha ucciso un passante con la sua spada, decapitandolo, dopo che si erano scontrati per la strada a Edo e questi non aveva cercato di colpirlo col suo bastone da passeggio. Il magistrato di Edo ha tentato di arrestarlo, ma egli è fuggito verso l'ovest e ha raccolto Shishi e li ha riuniti a Kyoto, diventando influente tra i radicali di Choshu, Satsuma e Tosa. L'idea di formare un corpo di Roshi era nominalmente di Matsudaira Shiranosuke, capo istruttore di scherma dell'Accademia Militare del Bakufu Aedo e parente dello Shogun. L'idea di Matsudaira era di assorbire i Roshi tra le sue file, in modo da controllarli e usarli per favorire l'unione di corte e campo. Ma i leader dei Roshi la pensavano diversamente. Uno di loro era appunto Kiyokawa. L'altro era Yamaoka Tetsutaro, un samurai di basso rango dei Tokugawa, amico intimo di Kiyokawa, che aveva studiato con lui scherma Dojutsiba e che faceva l'assistente istruttore di Kenjutsu all'Accademia Militare del Bakufu. Quando Yamaoka fu selezionato da Matsudaira per supervisionare il corpo dei Roshi, Kiyokawa sembrò l'uomo giusto per convincere altri Ronin a entrarvi e perciò fu graziato per i suoi crimini tramite l'amnistia. L'idea funzionò e presto vennero reclutati ben 250 uomini, pare alle forze dei molti dei signori feudali. La prima visita dello Shogun a Kyoto in oltre due secoli dimostrava la sua diminuita capacità di dominare il paese. L'8 febbraio 1863 il corpo dei Roshi parte da Edo alla volta della capitale, come avanguardia dello Shogun. Il Roshigumi si radunò al tempio Denzu-in e due settimane dopo, nove giorni prima dello Shogun, attraversarono il ponte di legno Sanjou sul fiume Kamo che scorre nella zona est di Kyoto. Il gruppo si fermò alla periferia ovest del città, a nord del Toji e tre chilometri a ovest del fiume Kamo, prendendo quartiere al tempio Shintoku-ji nel villaggio dei Mibu, un'area rurale. La maggioranza dei Roshi era vestita in maniera povera, con vestiti usurati, e solo le due spade li identificavano come samurai. La gente del luogo inizia a chiamarli Mibu Roshi, con una connotazione di migratorie, e quando alcuni di loro iniziano a storcere denaro dai mercanti e timorire la gente comune, passarono a chiamarli Lupi di Mibu. Poco dopo il loro arrivo, Kiyukawa raduna i Roshi al tempio e inizia ad arringarli dicendo che il loro compito non era proteggere lo Shogun, bensì aiutarlo a mantenere la promessa fatta all'imperatore di espellere i barbari, presentando una lettera da mandare all'imperatore dove si mettevano al suo servizio per tale causa. Ogni uomo del Roshigumi fermò la lettera, non volendo opporsi a Kiyukawa. Quando il giorno dopo la lettera arrivò alla fazione radicale della corte e ne giunse in notizia anche al Bakufu, quest'ultimo non ne fu affatto contento e si propose di assassinare Kiyukawa. Poco tempo prima, in agosto, tre uomini e una donna inglese a cavallo avevano non intenzionalmente interrotto la processione di Shimazu Isamitsu da Tokyo a Kyoto, vicino a un piccolo villaggio chiamato Namanura, vicino a Edo, e uno di loro era stato barbaramente ucciso dai suoi samurai, seppur si detta la colpa a uno solo di loro. Gli inglesi chiedevano risarcimento dai Tokugawa e minacciavano un attacco armato. Kiyukawa propose perciò ai Roshi di ritornare subito a Edo per espelleri i barbari. Il Bakufu finse di accettare la loro idea e permise loro di tornare indietro, ingannandoli, dato che non aveva alcuna intenzione di attaccare l'inglesi. Tra i Roshi del gruppo arrivati a Kyoto, 13 persone chiedono di poter rimanere a Kyoto per poter addempire all'originale progetto di aiuto la sicurezza pubblica della capitale. Si può dire che costoro, la cui maggioranza proveniva dal feudo di Mito e dalla provincia di Musashi, fossero più devoti allo shogun che all'imperatore. La loro petizione viene accettata dal protettore di Kyoto e andano così a formare il nucleo originario dello Shinsengumi. Tornato ai Do, Kiyukawa prosegue nel suo progetto di attaccare gli stranieri a Yokohama e raccoglie 500 uomini, tra i quali anche Yamaoka Tetsutaro. A metà aprile, Kiyukawa si reca a casa di un amico che intende reclutare per il suo previsto attacco, che però fa l'agente doppio giochista per il Bakufu e provvede a imbottirlo per bene di sake, e poi insiste per riaccompagnarlo a casa. Lungo la strada, Kiyukawa viene attaccato da sei uomini armati di spada, di cui uno è Sasaki Tadasaburo, un abile spadaccino e istruttore di scherma dell'Accademia Militare di Edo. Appena si sparge la voce, uno dei suoi seguaci, sapendo che Kiyukawa porta con sé una lista di nomi dei 500 cospiratori e che può incriminare tutti loro, si precipita sull'uovo dell'agguato. Le spade di Kiyukawa sono ancora nel fodero. Il corpo è ancora vestito con i pantaloni a righe grigie e la giacca nera. A destra del corpo c'è la testa ricisa di Kiyukawa, con il codino ancora in ordine, e lì vicino c'è anche l'elmetto di cipresso laccato che portava. Sulla schiena si vede un profondo taglio sulla spalla sinistra e un taglio netto alla base del collo sulla destra. Il braccio destro è steso in fuori. Vicino alla mano destra vi è un ventaglio di ferro che Kiyukawa teneva per proteggersi da eventuali aggressioni. Il seguace fruga il corpo e trova la lista nella tasca della giacca. Si sente però in obbligo di seppellire la testa di Kiyukawa, che avvolge nella giacca e porta fino a casa di Yamaoka. Yamaoka conserverà la testa nello zucchero nel suo armadio, ma dopo alcuni giorni, dato il puzzo immondo, la metterà in un bidone, ma poi la sposta e la nasconde sotto una delle asse del pavimento della sala di allenamento. La puzza infesta la sala e quindi Yamaoka decide di seppellirla ai piedi di un olivastro nel suo giardino.